Quando ci si mette in cammino bisogna essere pronti ad accogliere e ad affrontare nuove sfide. Lo sanno bene i camminatori che partono alla ricerca di se stessi, come lo sanno gli organizzatori di Mond, Festa del Cinema sui Cammini, la cui sesta edizione si è conclusa ieri, domenico 8 ottobre, a Monte Sant'Angelo. La città dei due siti UNESCO e capitale della cultura pugliese del 2024 ha ospitato la manifestazione che quest'anno ha avuto come tema la chiamata all'avventura e che ha visto in programma, come sempre, proiezioni, masterclass, matinee con gli studenti, cammini, incontri con gli attori, registi e produttori. Il Festival Mond è cresciuto negli anni approdando anche alla mostra del cinema e instaurando relazioni importanti con le giornate degli autori. Agli ospiti di Mond è stato consegnato un oggetto tipico dell'artigianato locale e della tradizione dei riti della Settimana Santa di Monte Sant'Angelo, identità, radici e tradizioni che vanno valorizzate e trasferite alle nuove generazioni. Sì, questa stessa edizione mi sento di dire che è stata l'edizione in cui siamo riusciti a mettere in scena il concetto di rete e comunità. Abbiamo avuto tantissima partecipazione e adesione alle proiezioni, soprattutto in particolare a quella delle giornate degli autori, ma sono stati particolarmente apprezzati i film ancora una volta sul cammino, perché il nostro pubblico, poi alla fine il nostro osso duro è proprio quello, il pubblico dei camminatori, gli amanti del cammino. E poi tutte le attività collaterali hanno discorso grandi interessi, nello specifico posso citare la masterclass di Ginevra Panzarino, che ha risvegliato questo senso di comunità perché ha parlato di quello che noi abbiamo sotto i nostri piedi, lì dove frequentiamo il festival, quindi ha parlato della nostra storia.